Quindi sostanzialmente per quanto riguarda il perimetro dei financial services confermiamo comunque un numero medio di 12 aziende e un panel stabile. E rispetto alla cardellata assolutamente interessante e ricca di Sara ci focalizzeremo solo sui compensi codisposti relativamente al 2021 per il Cero e le politiche del 2022. Se entriamo in quello che sono appunto le tematiche dei compensi codisposti andiamo ad osservare che la remunerazione fissa ovviamente come notate dal grafico dal 2012 al 2021 continua a essere sufficientemente stabile e alta con un incremento per quanto riguarda le aziende appartenenti al Fuzimib servizi finanziari del 6%. Ci siamo domandati come mai di questo incremento. Allora dipende principalmente dalle variazioni di alcuni titolari ma ci siamo anche soffermati sul perché il fisso. Come sapete il mondo finanziario è estremamente regolato quindi qua ritocchiamo una delle tematiche che sono state affrontate. La norma ci impone di avere un tetto alla remunerazione variabile e ci impone dalle tetto viene imposto o con 1 a 1 o con un'elevazione massima del 2 a 1. Quindi cosa può fare il mondo finanziario per remunerare magari nuovi amministratori delegati che hanno un mandato sfidante o che hanno magari all'interno di quella che è la loro strategia acquisizioni piuttosto che operazioni strategiche rilevanti. E' più facile agire sul fisso e questo è quello che abbiamo osservato sicuramente tra il 2021 e il 2020. Se ci invece ci andiamo un attimino a focalizzarci su come sono stati erogati, scusate ho il computer che spero che vediate la documentazione ma il computer che... Vi chiedo scusa ma non vedo più la presentazione, ho il computer tutto nero. Noi la vediamo Roberto. Ok, è un po' difficile andare al buio, cercherò di andare a memoria. Datemi un secondo che cerco a questo punto di andare... Dovremmo condividerlo a noi. Sì, e io vi chiedo scusa ma non capisco come mai. Vi chiederei un attimo, proverei a sconnettermi e a riconnettermi piuttosto dal mobile. Mi spiace molto. Roberta non ti disconnettere, adesso Beatrice condivide la presentazione e tu la puoi commentare. Ok, e io la vedrò dal mio mobile perché purtroppo... Chiudi la condivisione della presentazione. Enzo, purtroppo vedo tutto nero, non riesco proprio a vedere niente. Ah, ok, ok, va bene. È un po' questo il tema. Vi chiedo scusa, questi sono anche un po' i belli della diretta. Allora, focalizzandoci, siamo appunto sulla stessa slide. Se ci focalizziamo effettivamente su quello che invece sono i compensi erogati, è interessante vedere come questi compensi hanno avuto un incremento rilevante. Quindi ci ritroviamo con effettivamente un incremento, addirittura quasi del 28% rispetto ai livelli del pre-pandemici e rispetto addirittura al 2017. Quindi cos'è che è interessante da questo punto di vista? è che vediamo sostanzialmente una performance dei amministratori delegati riconosciuta a fronte appunto di alcune sfide strategiche che sono state appunto richieste per gli amministratori delegati del nostro panel. Quindi il dato che vediamo qua è un dato complessivo, non vediamo sostanzialmente gli effetti del differimento ed è però appunto concentrato sull'incentivo di breve termine. Questa è una riflessione che va fatta sotto questo punto di vista e che ricordiamoci che quantunque l'incentivazione di breve termine per quanto riguarda gli amministratori delegati o il personale più rilevante delle aziende finanziarie è differita ed è pagata in strumenti di cash ed equity. Quindi ad esempio questi dati che osserviamo sono dati forse rivedo no, va bene sono dati che comunque vanno a essere riconosciuti ai percettori in un arco temporale che va dai 5 ai 7 anni. Se poi chiedo a questo punto a Beatrice di condividere la slide numero 4 andiamo a vedere quali sono i compensi corrisposti nel 2021 dove sostanzialmente l'impatto della ripresa della performance sui pieni di incentivazione risulta interessante e correlata rispetto all'utile al chipia dell'utile lordo totale. E questo perché? Cos'è che osserviamo? E ritorniamo sul tema della norma. Prima ci siamo raccontati sostanzialmente che il regolatore ha imposto un tetto alla remunerazione variabile generando da un lato una stabilità molto elevata sulla remunerazione fissa ma anche neutralizzando a questo punto tutta una serie di up and down correlati al business stesso perché se vediamo una flessione ad esempio nel 2016 e anche nel 2020 dell'utile lordo erogato vediamo invece un totale di payout erogato sufficientemente costante. da un lato possiamo soffermarci forse rivedo incredibile ok possiamo soffermarci appunto su quelle che sono la numerosità degli obiettivi correlati all'utile all'interno delle schede quindi troviamo all'interno delle 11 aziende del panel osservato quest'anno notiamo sostanzialmente che il 45% utilizza l'utile come onetto o lordo come uno degli obiettivi all'interno della propria scheda incentivante di breve dopodiché invece due aziende lo utilizzano come gate qual è la riflessione un pochino più ampia che possiamo condividere in questo momento? sì il regolatore ha evitato dei grossi picchi ha evitato che ci fossero delle remunerazioni variabili estremamente elevate ha però stabilizzato quest'erogazione l'ha stabilizzata con appunto generando potenzialmente una correlazione meno lineare rispetto ad alcuni KPI da qui diventa assolutamente interessante comprendere quali sono i KPI che vengono inseriti all'interno delle schede incentivanti e di conseguenza con che peso ad esempio appunto sull'analisi svolta sull'utile il peso medio è pari circa al 29% se ci spostiamo dal lato destro della slide quello che notiamo sostanzialmente è che quest'anno le aziende che hanno performato rispetto appunto all'anno scorso si sono stabilizzate sicuramente dal punto di vista pari a livello di raggiungimento dei target ma c'è stato un picco di over performance quest'anno invece nessuna delle aziende del panel finanziario non ha riconosciuto erogazioni anche qua sostanzialmente notiamo che il pay for performance continua ad essere a generare questo livello di sostenibilità da un punto di vista di obiettivi e pay out ritorna ad essere chiave la creazione del sistema incentivante ritorna ad essere una delle tematiche che i consigli di amministrazione devono affrontare per comprendere quale è il corretto bilanciamento tra obiettivi le schede, il peso stesso e di conseguenza come lo raggiungiamo questa è una riflessione che ci porta alla slide successiva quindi dove sostanzialmente andremo a vedere quali sono nelle politiche 2022 le offerte allora anche qua noi abbiamo un pay mix che è limitato da quello che è il cap sulla remunerazione variabile l'unica cosa che stiamo osservando ed è in linea con quello che Sara anticipava poco fa è una leggera flessione dell'incentivo di breve per una propensione maggiore sull'incentivo di lungo termine. Da un lato ricordiamoci comunque che come abbiamo detto poco fa l'incentivo di breve termine è un incentivo che quantunque viene erogato su un arco di tempo pluriennale ma anche qua quello che abbiamo osservato anche rispetto all'estero, questo per darvi una vista un pochino più ampia è che la normativa stessa, poi nello specifico la normativa di Banca d'Italia e anche rispetto a quella che la governance tipica del mondo italiano associa il mandato del CEO e per appunto per un periodo triennale e con questo come minimo e con questo sostanzialmente il sistema e gli obiettivi del sistema incentivante. Quindi lo sviluppo dei piani di lungo termine principalmente chiusi è un'osservazione che vediamo e di conseguenza anche lo spostamento della componente remunerativa su questa parte del PayMix. Chiederei poi appunto di spostarci sulla slide successiva avendo appunto focalizzandoci su quelli che sono i KPI ESG. Noi ci avevamo parlati a gennaio, se non ricordo male facendo una grossa analisi, un grosso deep dive su quello che erano gli obiettivi ESG all'interno dei sistemi di lungo termine. Bene, possiamo continuare a confermare che anche appunto nelle politiche 2022 il 91% delle aziende financial services prevede che i PIA ESG sia nei sistemi di breve sia nei sistemi di lungo. Quindi questa parte qua, il tema della sostenibilità sta diventando non solo un allineamento al regolatore, ma vediamo che sta diventando una parte preponderante del business delle aziende. Anche qua dobbiamo capire come, e le aziende stesse stanno cercando di capire, come appunto misurarli questo ce l'aveva già anticipato poco fa Sara, come misurarli, come raggiungerli come in qualche modo continuare a far sì che questo sia un percorso che non si chiuda col ciclo di vita del progetto, del sistema incentivante, ma che faccia parte della strategia aziendale. E anche qua appunto se andiamo su, le facciamo un deep dive direttamente su quali sono gli obiettivi inseriti all'interno delle politiche, quindi nella slide successiva, quali sono le evidenze che osserviamo? Le evidenze che osserviamo sono sicuramente, come ci ha anticipato anche poco fa Valentina, un fortissimo impegno sui temi della D&I. L'incremento del 62% sull'allocazione di lungo termine di questi KPI relativi al genere ci racconta una storia da un lato, ma ci racconta anche le complessità che le aziende in questo momento stanno vivendo nel portare a terra il tema della diversità di genere. Tornando appunto a uno dei fil rouge di questa chiacchierata, che è la normativa, abbiamo anche la normativa di Banca d'Italia, oltre a quella che anticipava poco fa Valentina, dove ci richiede un'analisi differenziata per il personale più rilevante a diversi crisi rispetto al personale non considerato nel perimetro più rilevante. Quindi le aziende stanno inserendo degli obiettivi all'interno dei propri piani di incentivazione che permettano sempre di più un raggiungimento di una percentuale di donne o di nuova nomina nelle posizioni N-1, N-2 rispetto al CEO, oppure una percentuale di donne in posizioni strategiche. Questo perché da un lato riflette con quello che può essere la struttura organizzativa rispetto alla visione normativa del personale più rilevante, ma è un percorso che va inserito appunto, è stato inserito all'interno dei piani di lungo termine perché, come diceva poco fa Valentina, ci si deve dotare gli strumenti. Ci si deve dotare gli strumenti per far sì che il raggiungimento di questi obiettivi vada attraverso la popolazione aziendale, vada attraverso i processi per far sì che poi si renda sostenibile perché non basta inserire una numerosità percentuale di donne in alcune posizioni. Occorre che questo processo attraversi l'intera piramide organizzativa. Altro tema rilevante è che anche il mondo finanziario ha iniziato a dotarsi di KPI correlati appunto all'ambiente. Di conseguenza, nello specifico, a ipotizzare o a generare prodotti che possono essere considerati, quindi prodotti finanziari che possono essere considerati sostenibili. Quindi chiudiamo con un forte commitment che sta avvenendo anche appunto per tutto il panel dei servizi finanziari per la salvaguardia del clima sicuramente e si continua a valorizzare il capitale umano con bisogno di qualche riflessione per comprendere come certi risultati possono essere sostenibili e appunto far parte della strategia. Grazie. 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 Grazie.